Ecco qua che allargo l'immagine. Oggi primo piano. Così, tipo... non mi ricordo più. Tipo cosa? È la prima volta che mi fai un primo piano. Ciao a tutti. Allora, ci chiedevano tanto il video e ecco il video. Pronti? Pronti? Sì, perché appena ci rimproverano noi stiamo sugli attenti. Subito, subito, subito. Allora, anche perché facciamo il video, ma ci sono un sacco di novità. Perché sono arrivate un sacco di cose. E l'ottunno, fantastico. Allora, hanno detto che manca poco, quindi... Ma cosa? Ma è una stagione favolosa. Ma ci siamo già detto. È una stagione favolosa. Tutti qui a dire che facciamo l'albero di Natale col caldo. Ma se anche fosse, chi se ne frega, ma è un anno stupendo, ma godiamocelo, no? Ho una domanda. Ma cosa volete? La pioggia? Non ne avete già avuto abbastanza? No, dai, è una stagione bellissima. Comunque, di fatto, così dicono che per 2-3 giorni... Ah, ma c'è anche il tacchio oggi? Sì, hai visto? Ah sì, sì, sì. Tacco 12, poi oggi mi sono messo il tacco fine. C'erano tutti quei lacci, lacetti che dopo dico noooo... E mi sono messo il but, quello chiuso con le lacci. Stacci, stacci, stacci. E poi, parlando di ancora temperature accettabili, guarda che meraviglia di abitino che ho comprato l'altro giorno, della Liujo, manica a farfalla, palloncino ma a farfalla, guarda che bello, con il logo Liujo con il cuoricino logato, vedi che bello, ho fatto di tutto di questa fantasia qua, ho fatto, questo che è l'abitino quello più sbirulino, è il più corto più sbirulino, con la balsetta doppia, poi dopo ho fatto il longhette e l'abito più cortino al ginocchio, ma il longhette è un modello diverso, ve lo faccio vedere, è tutto profilato di ecopelle, guarda, questo ve lo faccio vedere perché merita, guardate che lunghezza, è un longhette, poi in realtà è quasi un lungo, però non è un lungo che si colgia, non è un longhette, manica lunga, con la goccia anche dietro, il bottoncino, lo scavetto così e tutto il cinturino d'ecopelle, è molto fine e poi anche il peso giusto, è un crepe, è un crepe di viscosa, questo invece è quello un pochino più sbirulino, vi faccio vedere una cosa, dai faccio sognare, esatto, vi faccio sognare, perché la prossima settimana sembra che cominciamo a doverne aver bisogno, si mette anche la sfera, è sempre chic, guarda che meraviglia, cappottino rosso, quest'anno nell'armadio qualcosa di rosso ci deve stare, esatto, perché è tanto, 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 tanto di moda il rosso quest'anno e quindi dosato bene, guardate questo cappottino, mi ricordo se l'abbiamo già fatto vedere nella versione nera, però, no, questo qui è quello con la cintura, esatto, abbiamo fatto vedere quello con la cintura, questo è abbottonato, è una specie di semi, ha un doppio petto qua così, ha cittura in piedi, spiancato, ha le tasche, aspetta che mi metto le mani in tasca, poi dopo, se tu mi segui, vieni con me, vieni, 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 tanto il quadro, ogni tanto le novità, palle nere rosso le ho pubblicate l'altro giorno, rosso pessimo, poi dopo, cavandosi il cappotto, se viene frescolino, in un locale oppure dove ce pare, oppure a posto del cappotto, no, non è al posto, sotto al cappotto, allora, la Chanel, ve l'abbiamo già fatta vedere, è in arrivo anche la Chanel nera, arriva nei prossimi giorni, però, se noi abbiamo freddo e vogliamo metterci qualcosa sopra, vi faccio vedere il cardiganino, anche lui è della Lugio, il misto cashmere, lana e cashmere con i bottoncini d'oro, se lo fai vedere, esatto, i profilini sono tutti color platino, col filettino in lurex, lo faccio vedere com'è bellino sopra, guarda la bittina, intanto c'ho sempre il mio assistente che fa, non so se è che mi prende in giro, eccoci qua, guarda, bello, lasciato aperto oppure anche messo con la cintura sopra, guarda che bello, e la manichetta, palloncina che lo sbuca fuori, guarda che grazioso, questo è, sia per coprire gli abiti, le camicine, perché c'è anche la variante camicia, è di questa fantasia qua, è fatto così, scatoletta, quindi non è uno sfiancato, e poi abbiamo tanti colori di questo, di questo ci sono tutti i colori del mondo, c'è nero, c'è cammello, c'è, basta, adesso il mio assistente, perché volevo fare anche i dettagli della scarpetta, adesso il mio aiutante, se mi inquadri la mano, vi faccio vedere, finia, c'è la mano, vi fate vedere la mano, vi faccio vedere una delle borse un pochino più di, non so che è un retro, ma anche questo retro qui va tantissimo, queste sono le borse a postino, vedete? Questa è della Penny Black, è una borsa semplice ma molto graziosa, ha il suo logo dietro, guarda, perché la Penny Black non fa, non ostenta, ecco esatto, ed è molto graziosa, 129 euro, si può dire che costa così, questa borsa qua, si può mettere così, o si può mettere anche così, più dinamiche, io per oggi direi che, noi siamo qua, direi che basta, ci abbiamo fatto vedere delle cose bellissime, il cappotto rosso, aspetta che metto tutto qui, mi cavo la maglia, non abbiamo altre cose da segnalare, direi che per ora ci fermiamo qui con il look e poi dopo lo invitiamo come sempre qui, perché ogni settimana qui arrivano un sacco di cose, se prossima settimana arriva molto freddo, state calmi, perché qui si entra uno alla volta, ciao!